Colpo di scena clamoroso nella casa del grande fratello VIP 2017 video dove nel corso delle ultime ore c'è stato un ritorno a dir poco clamoroso che ha riguardato Cecilia Rodriguez, l'ultima concorrente di questa edizione che come ben saprete è stata eliminata dal programma la scorsa settimana. La sorella di Belen è stata fatta fuori dal gioco con una percentuale di voti a dir poco bulgara che ha sfiorato la soglia del 50% un vero e proprio boom tenendo conto del fatto che in nomination vi erano quattro concorrenti. E così abbiamo visto che Cecilia ha lasciato da solo il suo amato Ignazio Moser che in questi giorni ha dovuto fare i conti con l'addio della sua fidanzata, la quale però non lo ha mai dimenticato neppure un solo giorno. Le ultimissime di gossip sul GF VIP, infatti, rivelano che Cecilia è rientrata in casa qualche ora fa, facendo una sorpresa a dir poco clamorosa al suo fidanzato. In questi ultimi giorni Ignazio Moser era in pensiero, perché temeva che Cecilia fuori dalla casa del grande fratello VIP potesse riprendere i suoi rapporti con l'ex fidanzato Francesco Monte e l'idea di questa cosa proprio non lo faceva viovere bene. E così Cecilia ha deciso di fargli una sorpresa e ha deciso di far sorvolare un aereo sopra la casa di Cinecittà, facendogli arrivare un messaggio a dir poco clamoroso che lo ha lasciato senza parole. Sì perché con questa frase Cecilia ha messo a tacere tutti i dubbi di Ignazio Moser, dimostrandogli apertamente che in questi giorni non ha fatto altro che pensare a lui. Nel dettaglio la frase contenuta nel messaggio aereo di Cecilia diceva Coisi non vedo l'ora di viverti fuori dalla casa, Cecilia ospite a Verissimo dopo il GF VIP un messaggio che ha fatto commuovere fino alle lacrime Ignazio Moser video, il quale solo adesso si è reso conto del fatto che veramente Cecilia si è innamorato di lui e che non lo ha preso in giro in queste settimane. Insomma la Rodriguez sembra avere le idee molto chiare su quello che vuole dalla vita e soprattutto su cosa fare nel momento in cui Ignazio Moser metterà il piede fuori dalla casa del GF VIP. Nel frattempo sabato 25 novembre Cecilia sarà ospite in esclusiva Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin dove parlerà per la prima volta della sua storia d'amore nata nella casa più spiata d'Italia. Un incontro molto atteso al quale parteciperà anche suo fratello Jeremias, eliminato due settimane fa dal programma Grande Fratello VIP 2 Cecilia e Ignazio.